Ho anche risposto sul tema dell'alto rappresentante, nel senso che io non dico che ci sono candidature che non esistono, dico soltanto che rispetto a ciò che ho letto, ho letto delle ipotesi come quelle del Presidente del Consiglio di cui a me nessuno ha parlato nelle discussioni tra capi di Stato e di Governo. Questo è l'elemento su che ho sottolineato. L'ipotesi che possa essere un italiano o un'italiana a guidare l'alto rappresentante dipenderà da molti fattori, dipenderà dal fattore se, come si è detto fino a questo momento, toccherà un nuovo socialista, se e in questo caso se il Partito Socialista avrà il desiderio di chiedere all'Italia di proporre il nome. È un'ipotesi, è un'ipotesi che comunque per noi è un'ipotesi che ove si verificasse ci troverebbe pronti in modo molto concreto, però non si è chiuso, l'unica cosa che mi sembra che si sia chiuso in modo definitivo è che se il Presidente della Commissione lo fa Juncker un popolare, l'alto rappresentante sarà un socialista.